Musica Vediamo i titoli del nostro telegiornale Occhia alla Notizia Nelle Marche calano i tamponi positivi al Covid Alla provincia più colpita e macerata Stabili recovery in terapia intensiva Ma rimane alto il numero dei decessi Sono nove le vittime, tra cui un fanese di 75 anni Le Marche verso una stretta sugli assembramenti Dopo l'annuncio su Fano TV Il presidente Acquaroli conferma In consiglio è la volontà di emettere l'ordinanza Intanto la regione è prenotta frigoriferi per il vaccino anti-coronavirus E cede all'Umbria un modulo del Covid Hospital Civita Nova Tiene aperto la domenica pranzo Multa e chiusura per 5 giorni Lo sfogo del ristoratore che scrive a Mattarella Non può decidere un algoritmo È un governo di incapaci Ci stanno uccidendo Ci vogliono far sparire E io non la posso accettare A Pesaro il sindaco Ricci annuncia L'arrivo di 3.000 saturimetri per le famiglie con over 65 La nuova misura messa in campo per proteggere anziani e malati Dal Covid-19 Volano i tendoni delle bancarelle a Pesaro Il vento provoca disagi La pandemia svuota il mercato settimanale Tra gli ambulanti c'è chi chiude in anticipo E chi invece non si arrende Siamo felici Anche se Perché siamo persone tenaci Gente che si alza il mattino Che lavora E cerchiamo di guadagnare la pagnotta Per i nostri figli La polizia di Fanno rintraccia e blocca Il ventenne albanese coinvolto Nella maxirissa Avvenuta al Pincio Lo scorso mese di settembre Tir bloccati nel sottopasso Nella rotatoria di via Settima Strada Bellocchi di Fanno La protesta di un residente Troppi camion nel centro abitato Il comune fa promesse da Marinai Buonasera e bentornati sul canale 17 di Fanno TV Apriamo il telegiornale con le novità Che arrivano dalla regione Marche Oggi sono stati annunciati La prenotazione di frigoriferi Per il vaccino anti-covid E l'accessione all'Umbria Di un modulo del Covid Hospital Il presidente Acquaroli Invece dopo l'annuncio avvenuto ieri mattina In diretta su Fanno TV Ha confermato anche in consiglio regionale La volontà di predisporre un'ordinanza Contro gli assembramenti La regione Marche Ha prenotato frigorifere In grado di conservare L'eventuale vaccino a meno 80 gradi Lo ha comunicato Filippo Saltamartini A margine della seduta Del consiglio regionale ad Ancona L'assessore alla sanità Ha fatto riferimento in modo implicito Ad uno dei vaccini annunciati Quello della società farmaceutica Pfizer Ne sono stati prenotati a sufficienza Ci possiamo organizzare per essere autonomi Ha precisato l'assessore Vedremo quale sarà la struttura E se questi vaccini saranno acquistati Direttamente dalla protezione civile Ma noi ci vogliamo avvantaggiare Per non trovarci sorpresi Come avvenuto con i tamponi Saltamartini ha poi dichiarato Che un modulo da 14 posti Del Covid Hospital di Civitanova Verrà ceduto all'Umbria Per ospitare dei genti Che verranno assistiti Da personale medico Proveniente dalla vicina regione Le Marchi ha riferito l'assessore Si sono attivate Per aprire un quarto E un quinto modulo Per accogliere pazienti fermi Nei pronto soccorso di macerata E altri nosocomi All'Umbria Proseguito Abbiamo ceduto un sesto modulo Perché noi non siamo in grado Di organizzarlo Dovremmo sottrarre medici Internisti Anestesisti Da altri reparti Intanto Il governatore Francesco Acquaroli Ha confermato Anche nell'aula Di Palazzo Raffaello Di una ordinanza Tanti assembramenti Dopo l'annuncio di ieri In diretta su Fano TV Oggi pomeriggio Si è confrontato Con i sindacati E le associazioni Crediamo che questo provvedimento Sia più che mai attuale Ha detto il Presidente Passando da zona gialla Ad arancione Le nuove limitazioni Non vanno a combattere Quelle situazioni In cui i cittadini Anche involontariamente Creano assembramento E c'è una possibilità Per il virus Di passare da persona A persona Riteniamo che L'ordinanza arancione Abbia un effetto Poco incisivo Su questi atteggiamenti Ha evidenziato Acquaroli Ma vorremmo Mettere in campo Tutte le forze E le energie Per coinvolgere I marchigiani A superare questa fase Dobbiamo far attenzione E imparare a conviverci A concluso Rispettando delle regole Di buonsenso E civiltà comune Che possono evitare Che la curva Torni a crescere E passiamo ai dati Sul coronavirus Sono otto I decessi Registrati Nelle ultime 24 ore Nelle Marche Ai quali però Ne va aggiunto Un nono Avvenuto nei giorni scorsi Per il quale È stata definitivamente Accertata La diagnosi di covid Sale così a nove Il numero dei decessi Si tratta di tre donne E sei uomini Di età compresa Tra i 71 E i 93 anni Tra le vittime Ci sono un fanese Di 75 anni E un uomo Di 83 anni Residente a Senigallia Che non aveva Patologie pregresse Nell'ultima giornata Sono stati rilevati 357 positivi Pari al 29% Di oltre 1200 tamponi Testati Nel percorso Nuove diagnosi Il maggior numero Di casi 115 Sono stati rilevati In provincia di Macerata Seguita da Ancona Con 77 Pesaro Urbino Con 68 Ascoli Piceno 49 Fermo 24 Oltre ad altri 24 di persone Provenienti Da fuori regione I ricoveri Invece Salgono a 603 26 in più Rispetto a ieri Rimane stabile Il dato dei degenti In terapia intensiva 78 Mentre sale Da 136 A 138 Quello dei pazienti In semi intensiva E questa sera Vi facciamo sentire Lo sfogo Di Cristian Marinelli Un ristoratore Di Fano Che dopo aver ricevuto Una multa Alla sospensione Del locale Tenuto aperto Domenica Pranzo Ha deciso Di iscrivere Al Presidente Della Repubblica Sono guarito Dal Covid Ed è la terza volta Che dono il plasma Iperimmune Ma soprattutto Sono un ristoratore Ed è per questo Che le scrivo Voglio parlare Dello schifo Che stiamo vivendo Inizia così La lettera Che Cristian Marinelli 46 anni Di Fano Ha inviato Al Presidente Della Repubblica Sergio Mattarella Dopo aver appreso Via social Che le marche Sarebbero entrate In zona arancione Ha deciso comunque Di tenere aperto Il ristorante La Quercia Sant'Andrea In Villis Risultato Multa di 400 euro E sospensione Della licenza Per 5 giorni Ma il problema Per Marinelli Non è la sanzione Bensì quello Che ha definito Un governo Di incapaci In un paese Chiamiamolo Normale Sapere Venerdì sera 18.30 Tramite Facebook Che i locali Devono rimanere chiusi Cioè sinceramente Abbiamo superato Tutti i limiti Cioè non è concepibile Quindi ho deciso Di tenere aperto E speravo Che qualcuno Venisse per vedere Per fare la multa Perché cioè Veramente io non ne posso più Mi sento veramente Preso in giro E basta Da cittadino E da persona equilibrata Prosegue Cristian Nella lettera Non posso accettare Che un ministro Di un governo Tra l'altro Non eletto Decida che io E i miei colleghi Dobbiamo buttare Le merce acquistate Avvisare la clientela Del disservizio Perché un algoritmo Ha cambiato colore Alla nostra regione A parte gli acquisti Ma avevamo Avevamo una comunione Che già sono state Rimandate a maggio Perché va bene A maggio Le vogliamo Cosa chiamo A questo bambino Di 9 anni Che tra l'altro Gli devo dire Non venire Perché Abbiamo cambiato colore No dai Preferisco Pagargli la multa Tutti E fargli venire E fargli passare La giornata Quanti erano I commensali? Ma totali Sono state 30 persone 35 persone Non è che ce n'erano Tanti Purtroppo Se ce n'erano di più Era più contento Ovvio Però ecco Assurdo Io non ho più parole Mi aspetto Prosegue il ristoratore Che tutte le forze Dell'ordine Tutelino noi Che siamo il motore Dell'Italia In prima linea Per dare lavoro Noi che trascuriamo Le famiglie Pur di lottare E andare avanti Mantenere gli impegni Presi E onorare le scadenze Mi hanno insegnato Se legge ancora Nello scritto Ad essere sempre sincero Educato Rispettoso Ma soprattutto A mantenere la parola data Per questo Marinelli ha ribadito Che pagherà Tutte le multe Che riceveranno I suoi clienti Da quello che so Io A quelli che erano fuori comuni Sono stati multati Però Ho già detto ai miei clienti Quando gli arriva la multa Me la devo portare Che gliela pagherò io Perché ci mancherebbe Cioè la responsabilità È mia Sono io Loro mi hanno detto Ma tu stai aperto E ho detto sì Io sto aperto Quindi loro vengono E la multa gliela pago io Non c'è problema Anche perché Diciamo Il comune qui vicino È a un chilometro Ed erano qui di Novilara Quindi Fa ridere Fa tutto ridere Lo sfogo di Cristian Si è poi concluso Con un appello Lanciato per iscritto Al presidente della Repubblica Al quale ha chiesto Di liberare Roma Dai criminali Che ci governano Quando io guardo Scusami giro Quella foto lì Che è la famiglia Che ci hanno insegnato Dei valori Il rispetto L'educazione Mantenere le parole Mantenere le promesse Poi Mio nonno Ho scritto Che lui ha fatto la guerra È tornato da una guerra Ci ha salvato dal fascismo E adesso la storia Sta cambiando Cioè I militari Cosa racconteranno Ai propri nipoti Fra un po' Che stanno liberando l'Italia E dagli italiani Perché questo sta succedendo Ci stanno uccidendo Ci vogliono far sparire E io non lo posso accettare Tutto qua Risulta positivo al coronavirus Ma scopre che il suo nome Non risulta Nei database Dell'Azur La storia è la storia di Enrico Che ci segnala una falla Nella sistema di gestione Dei positivi al covid Forte dolore al petto Fiato corto E nessuna percezione Di odori e sapori Inizia con questi sintomi La storia del fanese 33enne Enrico Gambini Risultato positivo Al covid-19 Lo scorso 11 novembre Dopo il tampone Fatto a pagamento E di sua spontanea volontà In un laboratorio privato Ho fatto entrambi i tamponi Il tampone rapido Dove sono risultato positivo E il tampone molecolare Dove sono risultato positivo Ma il laboratorio privato Voleva ripetermelo Perché davo levemente positivo E secondo loro Ero alla fine del covid Però comunque Hanno dovuto segnalarmi positivo Forse è meglio Dichiarare il falso Dire che uno ha la febbre Almeno uno riceve il tampone Che magari andarlo a fare Nelle strutture private Enrico si pone subito In quarantena E per non mettere a rischio La sua famiglia Decide di chiudersi Nella mansarda A casa dei suoi genitori Attende quindi La telefonata da parte di Asur Che però tarda ad arrivare L'ente sanitario infatti Non è nemmeno a conoscenza Della positività di Enrico Il suo nome Non risulta in nessun database Mi hanno detto Che sarebbe partita La segnalazione All'Asur E ho atteso Giovedì Venerdì Tutto weekend Ho atteso ieri Una chiamata Mai arrivata Fortunatamente Tramite una conoscenza Sono riuscito A mettermi in contatto Con l'Asur E praticamente Dai computer dell'Asur Risultava Che io non ero Né segnalato Né segnalato positivo Quindi io Volendo Sarei potuto stare in giro O andarmene al lavoro O a casa Con i miei familiari Invece Sto continuando La quarantena Perché mi ritengo Una persona responsabile Il problema Non sono andato a fondo Però sicuramente La falda è stata O dall'istituto privato Che non ha comunicato Oppure L'istituto privato Ha comunicato Ma la mia segnalazione È andata persa Da qualcuno Si tratta Dell'ennesima falla Nel sistema Che spiega Enrico Mette gravemente A rischio La vita delle persone Soprattutto dei più anziani E che lascia Ancora una volta Nelle mani Del buonsenso Di ciascuno di noi La salute Di chi ci sta intorno Fortunatamente sono giovane Ma se succede A una persona grande A un adulto A un anziano Che non ha questi mezzi Per essere Per reperire Per essere reperibile Con qualcuno Cosa succede? Lo lasciamo in casa Un mese Due mesi Tre settimane Fortunatamente Sono riuscito Ad essere preso in carico Dall'Azur E sabato mattina Sono riuscito A ottenere un tampone Perché venerdì Finisco la quarantena E sabato mattina Sono riuscito A ottenere un tampone Ma questo grazie Perché io Sono riuscito A mettermi in contatto Con l'Azur Tutto qua Se no L'Azur Non mi avrebbe mai chiamato Il servizio Era di Letizia Marchionni Il divieto Di spostarsi Da un comune All'altro Salvo alcune eccezioni Ha avuto Una pesante ricaduta Anche sul mercato Settimanale di Pesaro Oggi Semideserto Complice Anche il vento Che ha fatto volare Diversi tendoni Angelica Panzieri Siamo al mercato San Decenzio di Pesaro Questa mattina Semideserto Per via del vento Sono volate diverse Bancarelle E i commercianti E i commercianti Hanno lavorato pochissimo Andiamo a sentire I loro pareri Nel servizio La crisi colpisce Anche il mercato San Decenzio di Pesaro E la nuova ondata Di Covid-19 Rischia di penalizzare Ulteriormente Un settore Già duramente colpito Dalla prima fase Del coronavirus Questa mattina Il mercato cittadino A Pesaro Era semideserto Per via Soprattutto Delle nuove Restrizioni Imposte dal passaggio Delle Marche In zona arancione Il divieto di spostamento Da un comune all'altro Ha fatto registrare Un forte calo Di presenze Al San Decenzio E diversi ambulanti Sono stati costretti Ad andarsene Ancor prima Dell'ora di pranzo Altri Non si sono presentati Affatto Qualcosa in più La domenica si fa Ma il martedì Non si fa più niente Specialmente Dopo c'è la domenica C'è stata la domenica E poi il mercato Dopo non si fa niente Però ha chiuso Tutti i comuni Chi viene Che comprare qui Ci ha ridotto In miseria Chiudiamo Anche perché Guarda Non c'è un cane Ma non solo io Tutti Questi sono mercati Se chiudeva del tutto Era meglio Intanto Stamattina A causa del vento È volato anche Qualche tendone Nessun senso unico Oggi per i pedoni Dopo la sperimentazione Di domenica scorsa Al mercato straordinario Di Piazzale Carducci Avviata dal comune Per contrastare Gli assembramenti La quale ha dato Secondo gli ambulanti Buoni risultati Domenica mi è andata benissimo Perché a me Va bene così Va bene Nel senso che la domenica C'è sempre molta gente Che non può venire Il martedì E vengono proprio per acquistare La sperimentazione Del senso unico Ma a me non ha influito tantissimo Anzi Le dirò che io Essendo uno dei primi Banchi In Piazza Carducci Nell'angolo Vicino alla palestra A me Venivano al ritorno E poi uscivano davanti a me Perciò andava benissimo Davanti alle bancarelle Erano comunque presenti cartelli Per ricordare ai cittadini Le regole Come quella Appunto Di mantenere la distanza Di un metro E indossare la mascherina Avete regolato Diciamo Gli ingressi Le entrate e le uscite Suddividendole Abbiamo l'igienizzante Abbiamo regolato appunto Le entrate e le uscite E cerchiamo appunto Se c'è assembramento Di far allontanare le persone Se si dovesse creare Un eventuale assembramento Per quanto riguarda domenica Intanto dobbiamo ringraziare Il prefetto Il sindaco L'assessore Frenco Ellucci E la dottoressa Stefania Marchionni Che hanno reso possibile Assieme alla protezione civile E alle forze dell'ordine Lo svolgimento del mercato Che è andata bene Perché la gente È stata abbastanza rispettosa E poi comunque Non potendosi muovere Dai comuni vicino C'è stata Diciamo Una riduzione Della clientela Però ecco È andata bene Invece questa mattina Pochissima gente È dovuta Non so Che stamattina Il tempo era brutto Comunque sia Il martedì Dopo la domenica C'è sempre meno gente Però come si può vedere Il pericolo di assembramenti Non ci sono Gli ambulanti Ci sono comportati Benissimo E siamo stati Veramente Molto Molto contenti Perché Con l'amministrazione Del genere Non poteva che andare meglio In quanto C'erano tutti i sensi Unici La gente Si è comportata bene È ovvio Che con la pandemia Il lavoro È al 70% Di meno 3.000 saturimetri Per le famiglie di Pesaro Dove ci sono Gli over 65 È la nuova misura Messa in campo Dal comune Dopo i bonus spese Bonus bambini 014 E il blocco attività Lo annuncia Il sindaco Matteo Ricci Del milione di euro Ottenuto dalla città Per essere stata Una delle più colpite Dal coronavirus Risulta un residuo Di circa 40.000 euro Abbiamo deciso Quindi in collaborazione Con Aspes Di acquistare Questi apparecchi I saturimetri Verranno consegnati Dai volontari Di quartiere Alle famiglie Appunto con Over 65 Che ne hanno La necessità Entro fine mese Ci arriverà La fornitura Conclude il sindaco Di Pesaro E nei prossimi giorni Saremo più precisi Sui criteri Di distribuzione La cronaca È stato rintracciato Questa mattina Dalla volante Del commissariato Di Fanno L'albanese Di 20 anni Che dopo la denuncia A piede libero Per la maxi rissa Venuta al pincio Lo scorso 19 settembre Aveva fatto perdere Le sue tracce L'albanese Un clandestino Di 20 anni Alla vista degli agenti Ha tentato Di scappare a piedi In via della Repubblica Ma dopo un tafferuglio Con gli agenti È stato bloccato Girava con un coltello Forse lo stesso Utilizzato due mesi fa Durante la collutazione Che aveva visto Protagonisti Un altro maggiorenne Quattro minorenni Tutti identificati Un ragazzo Era anche finito Al pronto soccorso Il ventenne È stato denunciato Per il possesso Illegittimo Di arma da taglio Ed è stato disposto Il provvedimento Di espulsione E continuiamo Ad occuparci Delle vostre segnalazioni Che ci portano A Bellocchi di Fano Dove un residente Chiede ormai da anni Al comune Di installare Una segnaletica Adeguata Per evitare Che i tir passino All'interno Del centro abitato Ad oggi Ci ha detto Ricevuto Soltanto promesse Da marinai Il servizio Di Filippo Pucci Mezzi di trasporto Pesanti Cartellonistica Inesistente E residenti Esasperati È la segnalazione Di Giorgio Renzoni Che ha chiesto Più volte Al comune di Fano Di trovare Una soluzione Per il tratto Della rotatoria Di via settima strada Nel quartiere Di Bellocchi Per il continuo Passaggio Di camion Di grosse dimensioni C'è la circolazione Di mezzi pesanti Quanto invece Ci sono dei divieti Invece immancabilmente Non rispettati Ho segnalato Questa cosa Diverse volte All'ufficio competente Della viabilità Tempo fa A Cristian Fanesi Quanto era lui Il responsabile Poi successivamente Fabio Latonelli Sono andato Per ben due volte L'ultima delle quali I primi di agosto Di quest'anno Ma non ho visto Segno di Di mostra Questo cartello Che ho alle spalle Abbattuto Già allora Il 4 di agosto Gli ho inviato Anche le foto Ed è rimasto così Questo cartello Qui i camion Che proseguono Verso la zona industriale Ci dice Renzoni Rimangono bloccati Prima del sottopasso Della superstrada Troppo basso Creando molti disagi Il cartello Di altezza massima C'è Ma soltanto A pochi metri prima Mettendo così In difficoltà Gli autisti Con manovre Anche pericolose E il conseguente Danno ai cartelli stradali Scene come queste Aggiunge il residente Sono diventate frequenti Ovviamente Girano su questa strada L'ottava strada Si trovano sotto un ponte Dove non passano Via in retromarcia Casini tremendi Negli orari di punta Specialmente File chilometriche Oni di clacson E così via Noi che abitiamo qua È una cosa insopportabile Tanto più Che lo stesso Questi mezzi pesanti Mi creano danni Anche alla casa Ben visibili Camion con 35 tonnellate Di portata Billici Tire autotreniche Immancabilmente Tutti i giorni Fotografati E filmati Ne potrei fare Proprio veramente Una Una videoteca Di tutte queste cose Che ho Quindi il problema È che Questi camion Purtroppo qua Non ci devono passare Colpa di questi Continui problemi Oltre alla mancata Segnalettica Sono anche i navigatori Che tracciano Il percorso più veloce Tagliando per il centro Abitato del quartiere Chiedo per l'ennesima volta Sono tre anni E anche più Che mi ci batto Che qualcuno Non faccia solo Promesse da marinai Ma intervenga veramente Con qualcosa di concreto Che poi questo concreto Secondo me Basterebbe Due semplici Bei cartelli Visibili A zona Biricocco Che fermi Questo Transito Da zona Monte Zona mare E nella rotatoria Di via Campanella Che venga Dirottato Il traffico Sulla zona industriale Non c'è bisogno Di passare Dentro un centro Abitato E questa era L'ultima notizia Del nostro Telegiornale Tra poco Le previsioni Del tempo E poi Una nuova puntata Di Guarda chi c'è L'ospite di questa sera È il giornalista E scrittore Giancarlo Trapanese Allora Buona visione Con i nostri programmi Arrivederci a domani Grazie a tutti Grazie a tutti.